Benvenuti su The Iron Lover Game Allora, per prima di cosa parliamo dello scorso video Sta avendo molto successo, mi sono divertito molto a farlo E' stato molto bello E vabbò, dai E' stato molto bello fare quel video E tra l'altro ragazzi, alle 19 Lascerò un altro video dove mostro le due squadre che si erano affrontate Cioè, vi mostro la formazione del Napoli e della Roma che si erano affrontate in quel pronostico Perché voi non lo sapevate, ma erano i top 11 delle loro rispettive squadre E io non sto scherzando, ve lo farò vedere Ma comunque Allora, Real Madrid, vabbò Il Real Madrid, il Real Madrid Mini Cooper, vabbò Suarez, che ha avuto anche la figlia Sì, sei inginta È inginta Questo, un misero mille Cioè, questo 9.900 Si sta alzando Ok, qua sta scendendo Si stava, si stava alzando Ok Ripa al Polo Nord con queste misere cose Spotify Dai ragazzi, vogliamo Ne vogliamo di facili Perché Ok Ok, bene, bene, bene Team Burner Ok Proprio di così Proprio Era Ragazzi, non dirmi che la prima prova riusciamo a battere il record Ragazzi Ok 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 Sì ragazzi Sium Sium Godo Godo che abbiamo battuto il record Ragazzi, riusciamo ad arrivare al record che avevamo Nei vecchi Nelle vecchie cose di Tiger and Lover Game Era tipo di 65 Arriviamo a 65 ragazzi Se arriviamo a 65 Vabbò Questo non l'avrei mai fatto Però Ho un nuovo high score Don't forget your towel Ok Ho raggiunto Un nuovo Vabbò Ragazzi Se arriviamo anche a 65 Cioè ragazzi Adesso proviamo a superare il 65 Non scherzo Allora Vabbò Eh siamo pronti ragazzi Cos'è il povril Mi sa qualcosa che Welp Scusate ragazzi Scusate Mo ci ripetiamo Allora VR Ok Bene Emirati Arabi Uniti Ok Birra Ok Bene Bene Epilessia Meno Ok Bene Che Stavo diventando Zeb89 Boccaiù Mio Dio qua Che mascella grande Ha sto qua Cristiano Ronaldo E Cristiano Ronaldo The Big Bang Theory Ok Zimbabwe Meno Antidepressivi Meno Non 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 Prendeteli Barcellona grande Bitcoin Cacchio Di 2 milioni Ragazzi Preferite Bitcoin Ma Cioè Ragazzi Sto avendo Più dick Di un video Di Antonio Sbancatore Cioè Bra Intanto Io Che Cioè Se è passata Da avere Ok Allora Riprendiamoci Razzismo Sere Ragazzi 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 La cosa che Io Non E' il fatto Che due anni fa Sapevo Quanti Quanti numeri Avevano Tutte le cose Adesso Io Ma che Paglia Cioè Eh sì Ragazzi Questo Ragazzi Dovevo portare Spesso Tiago In Lover Game Sicuramente Ok Los Angeles Leicester City Vabot Mail Su 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 Nelly Interstella E che Ok XXX Oddio Ragazzi XXX Veramente 151 Miglio Come fa Singapore Airlines Ad essere più Lo conosciuto Ai cacchio Di Red Hot Chili Peppers Ma che Cazzo Ragazzi Si sono anche Riformati Eh Vabbò Ragazzi Vorrei già chiudere Il video Però Sono Cinque Minuti Dai Facciamolo Durare Almeno Otto Quando Raggiunge E che No Facciamo Una Cosa Facciamo Una Cosa Proviamo Volevo provare Allora Volevo provare Questa nuova modalità Chiamata Forse ho già provata Questa modalità In realtà Vabbò Chi se ne frega Facciamo come se Fosse una nuova Perché Perché Vabbò Allora Il mio score È di 27 Ok Interessante Guarda che Mo Lo battiamo London London Che Ok La Cina Che Vabbò La Cina È la Cina Bra Che 260 Ma 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 Proprio il Tosto È così Tanto Conosciuto Quello Era Sculato Quello era Proprio Sculato Che Però Il 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 Cata Giuda Quanto È bello Il nome Cata Giuda Cioè È proprio È proprio Un nome Che direbbe Un terrone Per potersi Incazzare Ho appena Detto Terrone Consapevoli Del fatto Che io Sia Del sud Ma Chi se ne frega Ragazzi Siamo Siamo Del sud Ragazzi Non Malta Dove Abita Anche Zeb Anche Se Però L'Indonesia È molto Più Bella Del Malta L'Honduras Che tra l'altro Voi lo sapevate Che l'Honduras Ha perso Tipo Perso 12 a 0 Contro La Norvegia Tipo I mondiali Under 20 E Aveva perso 12 a 0 E molti I gol Sono stati Fatti Da un Giovanissimo Alland Vabbò Ti prego Alland Se è meglio Sbancatore Di te Fai schifo Suicidati Scusate Per questo Per questa Criticizzazione Di Alland Facciamo Un'altra partita In modalità Normale E dopo Ci salutiamo Allora Pitagora Ok Ho preso Ok bene Qatar Airways Famoso Però non Quanto famoso Come il ristorante Buzzfeed Molto più famoso Red Bull Meno Non arriva Nemmeno al milione Paris Saint Germain Vabbò Il Paris Saint Germain Il risultato Le azioni Sarà molto cercato Honda Cercato di più Ragazzi Nella ultima partita Potremmo battere Il nostro record All Blacks Quelli che fanno Il famoso Quella famosa Cosa Pre partita Ok bene Berizon Molto più cercato Rage Quaik Scusate ragazzi Non so parlare In Islandese Vabbò Chip Flights Anuka New York Mets Molto Ok Bene Sik Ci vediamo Con il video Che verrà rilasciato Che ne so O alle 16 O alle 10 No probabilmente Alle 17 Sette